Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPI-Li. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno si segnalano animali sulla strada nel tratto tra Navacchio-Visignano e Cascina, in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze è scambio di carreggiata tra Colle di Val del Sasud e Badesse, in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra i chilometri 226 e 231 tra Scarlino, Scalo e Rio Torto, in direzione Cecina. Scambio di carreggiata per lavori tra Fonte Vlanda e Montiano, in direzione Grosseto. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!